Nel caso in cui si dovesse decidere di interrompere questi lavori, ogni 25-26 km di gallerie o quanto sarà stato realizzato fino a quel momento, non sarà possibile lasciarli come sono, non è una cantina che uno la chiuda a chiave e se ne va. Al di sopra di questa montagna ci sono vari paesi che non possono permettersi di avere al di sotto una galleria che potrebbe crollare e quindi creare situazioni che possono portare pericolo per le popolazioni che vivono al di sopra. L'attività che andrebbe fatta sarebbe quella di studiare una soluzione progettuale di riempimento di queste gallerie. Una volta studiata la soluzione progettuale, per individuare le società di ingegneria che dovrebbero fare questo lavoro sarebbero necessarie delle gare d'appalto, dopodiché andrebbero fatti dei processi autorizzativi sia in Italia che in Francia per prendere il materiale, capire da dove prendere il materiale, il tipo di lavorazioni, approvare i cantieri che servirebbero per il riempimento di queste gallerie. Dopodiché si dovrebbero bandire le gare d'appalto dei lavori di richiusura di queste gallerie. Diciamo che il tempo per fare progetti, processi autorizzativi e gare d'appalto è lo stesso nel caso in cui si debba realizzare una galleria o la si debba tappare. Quindi i tempi tecnici sono almeno 5-6 anni. Possiamo immaginare un paio d'anni per fare effettivamente i lavori di richiusura, quindi è un processo che dovrebbe durare, secondo me, intorno ai 7 anni. Grazie a tutti.